Ciao amici di Veggie Italiano, oggi facciamo la pasta e ceci, ovviamente con qualche modifica come il mio solito. Come potete vedere ho preso ceci biologici secchi, li ho messi a bagno ieri pomeriggio con aggiunta di rosmarino del giardino, bacche di ginepro e due spicchi di aglio. Ho messo in questo tegame con un bel po' di acqua, aglio e rosmarino. Dovranno cuocere circa due ore con fuoco moderato. Ho raccolto delle verdure in giardino e le ho messe qui quasi a cottura ultimata dei ceci. Ho aggiunto un altro tegame nel quale preparo un soffritto classico con aglio, olio aromatizzato da me e rosmarino e dopo ci andrò a buttare i ceci che sono con l'acqua di cottura e la verdura che sono quasi cotti. Ecco qui i ceci con le verdure e l'acqua di cottura aggiunti al soffritto e adesso ci aggiungo il sale e poi la pasta. Ed ecco il risultato di questa meravigliosa e buonissima pasta e ceci. Non è proprio uguale a quella romana, pur essendo molto simile il procedimento, perché manca il popodoro e in aggiunta ci sono le verdure del mio campo. Provatela perché è strepitosa.